È stata presentata questa mattina in Sala Razzi la seconda edizione del Believe Film Festival, concorso di short movies organizzato dall'associazione Believe Aps, con l'obiettivo di sviluppare e far emergere il talento dei giovani tra i 13 e i 19 anni. Tante le novità per l'edizione 2019, tra cui la prima edizione della Believe Film Festival Academy. È un'opportunità formativa per i ragazzi che hanno il desiderio di partecipare e approfondire le arti del cinema. Quindi saranno laboratori che permetteranno ai ragazzi di imparare l'arte del cinema, dalla direzione della fotografia, la sceneggiatura, la recitazione, il trucco, grazie a una serie di formatori che si sono messi in gioco per dare una mano all'associazione Believe Aps. I vincitori della seconda edizione saranno premiati il 2 novembre al Cinema Teatro Alcione, a partire dalle 19. La voce ai ragazzi dai 13 ai 19 anni che possano esprimersi attraverso produzioni di corti è importante perché è davvero una manifestazione centrata sui giovani, dove sono i giovani che si esprimono e la nostra amministrazione punta fortemente a questo, a valorizzare le loro capacità, i loro talenti e la loro voglia legittima di essere protagonisti.